Musica Arriva la risposta del Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, alla lettera del Sottosegretario dello Sviluppo Economico, Antonio Gentile, in merito alle domande e alle perplessità sollevate rispetto al mandato affidato dall'Aggiunta all'Avvocatura regionale di verificare la possibilità di intraprendere azioni risarcitorie nei confronti di infrastrutture lombarde. Il ritardo, scrive Oliverio, nella realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri costituisce un pesante costo a danno dei cittadini calabresi. Oggi stiamo correndo ai ripari ponendo rimedio ad assurdi ed impensabili errori risalenti alle attività di precedenti amministrazioni regionali. Quali sono gli errori di cui parla Oliverio? Il Governatore si riferisce a vizi procedurali e di progettazione a partire dalla scelta di siti individuati per la costruzione di tre nuovi ospedali, ma risultati non idonei per la presenza di elevato rischio idrogeologico, una decisione che ha favorito gravi ritardi e costi aggiuntivi e non previsti, come ad esempio la messa in sicurezza e la sistemazione idrogeologica degli stessi siti. Il rischio della perdita di finanziamenti, conclude Oliverio, sarebbe stato incombente se ci fossimo resi complici e se avessimo agito in continuità alle procedure che abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni. Informare l'Avvocatura regionale dunque è stato un passo obbligato, almeno secondo il Governatore, per tutelare l'interesse della pubblica amministrazione e prevenire il rischio che la Regione fosse esposta ad ulteriori esborsi. L'esercizio del principio della responsabilità soggettiva impone che a pagare sia chi ha effettivamente sbagliato, ma in questa vicenda, almeno per il momento, gli unici ad averci rimesso sono i calabresi. È morto a Cetona Rosario Villari, storico ed ex parlamentare del PC, aveva 92 anni. Membro dell'Accademia dei Lincei e professore merito dell'Università La Sapienza di Roma, era nato a Bagnara Calabra il 12 luglio del 1925. La sua è una famiglia di storici, anche il fratello Lucio, infatti, è un noto docente di storia contemporanea. Villari è deceduto a causa delle complicanze legate ad una polmonite. Sui libri di storia scritti da Rosario Villari si sono formate intere generazioni di studenti. I suoi manuali sono stati adottati da centinaia di licei e istituti superiori. Sono considerati i responsabili del brutale omicidio di Francesco Berlingeri, fruttivendolo ucciso alla Mezzia Terme lo scorso 19 gennaio a colpi di pistola. La procura di la Mezzia Terme non ha dubbi sulle responsabilità di Marco Gallo, 32enne, e della moglie Federica Guerrisi, infermiera di 30 anni, fermata nelle scorse ore. Gallo, invece, già in carcere, ritenuto il killer di Gregorio Mezzatesta, avrebbe trovato nella propria compagna la spalla perfetta per compiere l'agguato all'affruttivendolo di etnia rom. Un episodio insolito e che ha sorpreso anche gli investigatori. Perché, diciamo, non è molto naturale, anche in contesti, se vogliamo, di criminalità organizzata di tipo mafioso, individuare una coppia di persone dotate anche di un certo grado di cultura, stiamo parlando di due laureati, che ad un certo punto decidono di svoltare l'angolo nella loro vita e incamminarsi su un percorso criminale di rilevante allarme sociale. E a complicare ulteriormente le indagini, anche il numero insufficiente di videocamere di sicurezza in città, il procuratore Lametino, Salvatore Curcio, lo ha sottolineato. Non ha mancato di evidenziare proprio la necessità di implementare un sistema di videosorveglianza delle città assolutamente deficitario e carente, che rende anche difficilmente acquisibile poi i sistemi, le videoriprese. Se da una parte le indagini hanno messo in luce la collaborazione perfetta fra i due coniugi, dall'altra resta ancora da capire il movente. Non ci risultano allo stato attuale collegamenti con la criminalità organizzata, non ci risultano motivi di acrimonia o di rincrescimento o da parte di nessuno dei due coniugi nei confronti della vittima. C'è quindi da ragionare su quale possa essere il movente, che non è nemmeno un movente occasionale, posto che non ci risulta che avessero mai litigato, addirittura non ci risulta che si conoscessero. E allora obiettivamente resta in campo anche quello del delitto su commissione. È stanco ma sereno e soddisfatto per l'esito dell'interrogatorio sostenuto. Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, accompagnato dal suo legale, dopo oltre tre ore di confronto con gli inquirenti della procura di Locri e gli investigatori della Guardia di Finanza, il primo cittadino ha spiegato passo passo e con precisione tutto quello che è stato fatto a Riace respingendo le accuse. La quiete dopo la tempesta, con i giorni successivi alla notifica di un avviso di garanzia in relazione a presunte criticità nella gestione dei fondi che hanno turbato la quiete del sindaco del piccolo paesino della Ionica. Lucano ha ritrovato la voglia di combattere e difendere quel modello di accoglienza di cui è diventato simbolo, un modello alternativo diventato volano di sviluppo per tutto il territorio. Il piccolo paese della Ionica è stato letteralmente salvato dallo spopolamento grazie ai migranti che hanno fatto rivivere case abbandonate e antichi mestieri. Ed allora perché tanti dubbi della magistratura? Il nodo, emerso anche in sede di interrogatorio, racconta Lucano, sta tutto nell'apparente contrasto tra la rigidità della procedura e la necessità di accogliere il regime di emergenza anche a causa di continue sollecitazioni istituzionali una comunità sempre maggiore di migranti. A differenza di tanti paesi e città sede di progetti SPRAR, Riace è divenuto sede di una comunità multiculturale che grazie a quei progetti, oggi contestati, è riuscita a rilanciare l'economia di un intero territorio. Proprio per questo venerdì oltre 500 persone si sono presentate spontaneamente nel piccolo paesino della Ionica per stringersi attorno a Lucano. Una manifestazione, hanno chiarito i tanti che quella sera sono intervenuti, non contro la magistratura, ma per mostrare quanto grande sia la comunità a cui Riace ha dato speranza e orizzonte. Una comunità oggi pronta a difendere il paese e il suo sindaco da chi ha in mente di strumentalizzare quell'indagine per distruggere un progetto che da oltre 10 anni macina successi. Il prefetto di Vibo Valencia, Guido Longo, ha disposto di concerto con l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell'Interno, il commissariamento di tre centri d'accoglienza di Briatico. I centri si occupano di 700 richiedenti asilo e si trovano all'interno di strutture alberghiere. La decisione trae origine dalle interdittive antimafie scattate nei giorni scorsi nei confronti di due cooperative che gestiscono centri d'accoglienza a Briatico, la Monteleone Servizi e la Monteleone 3.0 Protezione Civile. Nel mirino sono finite alcune forniture che sarebbero state date in subappalto, da qui il commissariamento deciso dal prefetto Guido Longo, finalizzato a permettere che l'organizzazione dell'accoglienza non subisca dei freni. Catanzara ha ospitato Cuori Connessi, la campagna itinerante di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi e pericoli connessi all'uso della rete internet rivolta a bambini, adolescenti e famiglie. L'evento, organizzato dalla Polizia di Stato e da Unieuro, si è svolto al Teatro Politeama, alla presenza di studenti delle scuole superiori provenienti da alcuni istituti scolastici del capoluogo. La finalità dell'iniziativa è di fornire ai giovani consigli utili per un uso consapevole e responsabile della rete. Il pericolo è grande, loro non riescono a capire che veramente dall'altra parte della rete non sanno di fronte a chi si possono trovare e quindi possono trovarsi di fronte a dei guai. E allora noi vogliamo essere chiari, vogliamo chiarire quali sono i meccanismi, quali sono i pericoli e come loro si devono comportare. I messaggi, le immagini e i video pubblicati su internet oggi si diffondono in maniera incontrollata e restano presenti nel web per sempre, creando problemi che in alcuni casi possono avere anche conseguenze drammatiche. Ci fa piacere constatare quanto, anche grazie a progetti di questo genere, alla nuova legge del 17 maggio 2017 su prevenzione e contrasto al cyberbullismo, i giovani siano sempre di più attenti all'uso consapevole e responsabile della rete. Sui social, soprattutto, bisogna avere molto contegno e molta dignità di se stessi, perché quello che si mette lo vedono tutti, anche se magari ci sono delle possibilità di avere l'account privato, l'account non privato, comunque possono vedere tutto tutti, semplicemente prendendo le foto e facendone quello che comunque le passa per la testa a tutti. Molte persone ci soffrono, stanno male, siamo anche arrivati al punto di vedere delle ragazze che per queste situazioni si sono suicidate. Siamo arrivati proprio allo schifo, praticamente. Secondo me, prima di tutto, bisognerebbe parlarne, che sia un adulto, cioè principalmente con un adulto, poi che sia un professore, un genitore o comunque persone adulte, perché la cerchia degli amici, che mi ammola così, può aiutarti però fino a un certo punto, poi è un adulto che può agire. È una forma di coalizzazione contro persone più fragili e più deboli su un social, il che è ancora più grave, perché è una forma di pulismo che non finisce mai, ti segue anche a casa, e ti senti sola e presa in giro da tutti, è come se non ci fosse una via di fuga da tutto c'è, andrebbe assolutamente rinunciato. Nel corso della manifestazione è stato proiettato il video che lancia la campagna con le testimonianze di alcune vittime. La squadra mobile di Vibo Valencia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emesse dalle GIP su richieste della Procura della Repubblica nei confronti di cinque persone accusate di aver svolto un'intensa attività di spaccio di droga in città e nella frazione Piscopio. Tra le persone che acquistavano la droga dal gruppo di spacciatori in luoghi anche centrali della città c'erano anche minorenni. Un uomo è stato arrestato dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria che hanno sequestrato una pistola semi-automatica marca Beretta calibro 22 e munita di caricatori e 20 colpi dello stesso calibro arrestando un uomo nel corso di una perquisizione eseguiti in un noto e frequentato ristorante del centro della città dello Stretto le cui quote societari in parte erano state precedentemente sequestrate per fatti collegati alla criminalità organizzata. Nonostante il diverso fine della perquisizione i militari hanno trovato l'arma con matricola brasa perfettamente funzionante e pronta all'uso nascosta sopra una credenza della sala tra posate e bicchieri all'interno di una pochette da donna. Il coniuge della titolare della società ha subito rivendicato la proprietà dell'arma. l'uomo incensurato risulta avere legami familiari con appartenenti a una nota cosca mafiosa locale tratto in arresto e stato successivamente trasferito in carcere ad Argillà. Ci sono zone di confine che sembrano non appartenere a nessuno quasi dimenticate e lasciate al loro abbandono. Sono zone periferiche spesso ai margini delle città di paesi più o meno grandi e qui che spesso il sottilissimo e labile confine che separa la civiltà dall'inciviltà viene superato brutalmente senza il minimo rispetto delle norme più basilari ed essenziali del vivere comune. Accade così che al confine tra gizzeria e la mezzia terme nel Catanzarese in molti hanno ben pensato di abbandonare qualunque tipo di rifiuto e immondizia senza preoccuparsi di ciò e di chi li circonda nella più totale incuranza. Lo scenario, oltre che sgradevole e anche desolante mostra in tutta la sua autoenticità le enormi responsabilità di chi si rende autore di questo scempio. Già gli autori difficile capire di chi siano le responsabilità divise fra amministratori e cittadini e in attesa di qualche risposta ci rimane solo che confidare nel buonsenso dei cittadini ma alla luce di quanto accade qui la speranza è davvero molto piccola. Festa grande nella frazione Simeri del comune di Simeri-Crichin in provincia di Catanzaro per l'importante traguardo dei cento anni raggiunto da Orlando de Salazar l'abitante più anziano del paese. L'intera comunità di Simeri ha la presenza dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaco Mancuso che gli ha peraltro conferito una targa e del parroco Don Francesco Cristofaro che gli ha donato un crocifisso ha festeggiato l'amato centenario augurandogli ancora tanti anni di salute e felicità. La festa è stata animata inoltre dalla parata d'eroe suonata dalla banda musicale comunale. Nato durante la prima guerra mondiale De Salazar ha vissuto pienamente la seconda. E quei tedeschi ne avvicinavamo sempre. Allora c'era uno che carriva frutta a Crick e portava l'anguria e accattava l'anguria e ci portava i tedeschi. I tedeschi chissà quello che vedevano che forse davano o ne fanno e mi davano un baratto le marmalate e cinque chile a volte mi davano e mi volevano bene i pazzi. Durante il suo breve ed emozionato intervento ha ringraziato la sua famiglia per l'affetto infinito e le attenzioni quotidiane dimostrate ed ha spiegato il segreto della sua longevità con l'illimitata fede in Dio l'amore per la famiglia stessa e per il lavoro principi cardine che durante la sua lunga esistenza non lo hanno mai abbandonato. Il ballerino reggino Antonino Casile è stato protagonista con la sua No Gravity Dance Company nella trasmissione di Canale 5 Tusiche Valles. Il talento di Antonino ha emozionato ed incantato giuria e pubblico. I commenti positivi della giuria con Gerry Scotti e Maria De Filippi in testa hanno evidenziato l'altissimo livello dell'esibizione presentata dai ballerini. Antonino Casile ballerino e coreografo partito da Mosorrofa paese pedemontano in provincia di Reggio Calabria vanta un curriculum artistico invidiabile. La strada è quella giusta stiamo facendo punti da più settimane e dobbiamo continuare così. Peccato non essere riusciti a gestire il vantaggio sul Torino la vittoria avrebbe potuto lanciarci in una posizione migliore e ci avrebbe consentito di lasciarci dietro a diversi rivali. Ma è inutile guardare al passato ed ora pensiamo alla Sampdoria che ci attende a Marassi dove sappiamo che la sfida è sempre difficilissima. Peraltro loro hanno iniziato la grande questo campionato e dispongono di un ottimo potenziale offensivo. Mario Sampirisi laterale difensivo dell'FC Crotone intende subito concentrarsi sulla sfida di sabato nell'anticipo delle ore 18 a Genova. Sì, assolutamente. Veniamo da qualche partita e partiamo a casa dei punti e dobbiamo continuare su quest'onda. Ci aspetterà la settimana prossima con tre partite molto difficili. Ne affronteremo una alla volta dando il massimo. Assolutamente sì, è una grande prestazione. Da come erano partiti penso che il pareggio era giusto per come è andata la partita. Però arrivare all'ultimo minuto andare in vantaggio e soffrire per quanto abbiamo speso durante la partita per come ci si allena certo beccare gol all'ultimo minuto non fa mai piacere. Ecco Sì, assolutamente. Testa la Sampdoria che sappiamo che è un'ottima squadra ma come la Samp tutte le squadre del Serie A sono ottene come abbiamo visto anche domenica contro il Torino sono partite difficili perché questa è la Serie A la Serie A ti chiede di andare a 3.000 non solo la domenica ma anche durante gli elementi appunto per questo ringraziamo anche i nostri tifosi che in casa ci danno una mano importante gli invito anche a venire a vedere gli elementi perché anche noi gli elementi diamo il massimo per arrivare alla domenica bene. Questa squadra deve ancora crescere molto non manchiamo tanto dal punto di vista tecnico-tattico quanto invece i limiti sono sul piano mentale della consapevolezza nei nostri mezzi in organico sono tanti i nuovi mentre siamo soltanto 4-5 superstiti dello scorso anno tre dei quali peraltro infortunati si capisce pertanto che serve raggiungere una solidità ed una facilità di movimenti chiaramente impossibile ad inizio stagione commenta così l'attuale momento molto delicato e difficile del Catanzaro Calcio e il laterale destro Matteo Zanini elemento duttile capace di ricoprire molti ruoli sicuramente i giocatori sono diversi perché siamo rimasti in 4-5 di cui tre infortunati e solo due stiamo giocando con continuità è una squadra diversa costruita per un obiettivo sicuramente in partenza simile perché quanto mi avevano detto e quanto leggevo l'anno scorso l'obiettivo era ben altro che la salvezza all'ultimo minuto però quest'anno sicuramente in mentalità e giocatori importanti adesso anche col cambio mister per come lavora il mister io credo che adesso è normale è arrivato prima partita incontri una delle squadre che sta meglio in campionato è difficile però credo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni sono convinto che non faremo la stagione dello scorso anno quando ci salviamo i play out sostiene Zanini crediamo che alla fine il Catanzaro non farà la stessa annata l'anno scorso anzi dal punto di vista mentale alla fine è quello che ci manca ci manca la consapevolezza dei propri mezzi perché se vai a vedere anche tutte le liste prima di ogni partita difficilmente trovi i giocatori che dici ma io ne toglierei uno qua per metterlo a Catanzaro se guardi i nomi della nostra rosa ovviamente quello che ci manca è quella consapevolezza mentale dal punto di vista tecnico tattico ci siamo con mister Dionigi stiamo lavorando molto anche sul piano dell'aggressività e del ritmo da ritrovare per cercare di essere maggiormente competitivi poi anche col mister lavoriamo molto sull'impatto di cattiveria aggressività adesso lavoreremo anche sul punto di vista tattico è quello che non c'è ancora scattato nell'arco di tutta la partita perché magari parti bene poi un po' ti scende quella concentrazione quella aggressività quella cattiveria il mister sta lavorando molto su questo e credo che una volta sistemato questo le buone cose vengono vincere fa sempre bene in fondo è morale ed aiuta a lavorare con più serenità e questo è un teorema sempre valido nel calcio da nord a sud e vale chiaramente anche per la regina che sabato è tornata alla vittoria prevalendo sulla Fidelisandria al Granillo ma gli Amaranto sono consapevoli di dover migliorare su molti aspetti primo tra tutti quello della lettura della gara tramite una migliore gestione delle pallone problematiche in ogni caso abbastanza normali per una squadra nuova e giovane qual è la regina così come afferma il difensore degli Amaranto la Ezza commentando il successo a scapito della Fidelis si venivamo da due sconfitte quindi è una vittoria che ci dà morale è una vittoria che ci fa lavorare sicuramente meglio che adesso dobbiamo pensare già alla partita di Monopoli perché bisogna migliorare ancora in tante cose magari nel gestire palla perché il mister ci chiede questo però ci sono purtroppo partite dove bisogna saperle leggere dove non ci fanno giocare palla e bisogna andare sulle seconde palle l'attenzione di la Ezza in ogni caso si è già spostata sulla difficilissima sfida di sabato alla Veneziane di Monopoli in casa della squadra terza in classifica dotata di un ottimo reparto avanzato sicuramente le stiamo facendo bene però è una squadra che può fare tanto però dobbiamo rimanere con i piedi per terra e umili e vedere il nostro primo obiettivo che la salvezza poi vedremo quello che riusciremo a fare mi trovo bene molto come centrale però c'è bisogno di adattarsi in tutti i ruoli se il mister lo richiede quindi siamo a disposizione a fare Grazie a tutti.